Il culto di San Gennaro, patrono di Napoli e tra le figure più venerate nel mondo cristiano con 25 milioni di devoti in tutto il mondo, candidato per la lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Ad avanzarlo ufficialmente durante un incontro che si è tenuto nella cattedrale di Napoli alla presenza del cardinale Crescenzio Sepe, istituzioni e realtà cittadine che hanno curato il progetto dell'iscrizione del culto e devozione di San Gennaro a Napoli e nel mondo, nella lista UNESCO. Un cammino interessante che ha coinvolto un po' tutte le varie istanze culturali, sociali e religiose, perché si vuole mostrare al mondo una realtà che di fatto, di fatto, non solo è presente in tanti continenti, compreso la Russia, ma il continente dell'America Latina, degli Stati Uniti, eccetera, ma soprattutto per questo influsso che ha sulla comunità, sulle società dove la devozione di San Gennaro è presente, come qualcosa che esprime quei valori fondamentali a cui dobbiamo riferirci, proprio perché attraverso la testimonianza di questo santo oggi possiamo testimoniare questi valori nella concredenza della realtà di oggi. Non breve l'iter per l'ottenimento del riconoscimento, spiega Maurizio Di Stefano, presidente del comitato ICOMOS e referente UNESCO. La conferenza stampa è dedicata a rendere conto dell'attività di due anni di lavoro, che sono stati dedicati sotto la guida di un gruppo di esperti alla formazione del predossier, che riguarda la possibile candidatura di culto e devozione di San Gennaro a Napoli e nel mondo. L'iniziativa ha un valore transnazionale, intende valorizzare la comunità che è amplissima, non quella solo napoletana o campana, la comunità che si dedica al culto di San Gennaro. Sappiamo che esso va declinato nella pittura, nell'arte, nella cultura, nella musica, quindi i valori che vengono portati in questa possibile candidatura sono molteplici, proprio come la Convenzione sul patrimonio mondiale dell'UNESCO ritiene per l'immateriale che debbano essere i requisiti di base su cui le comunità possano trovare la loro identità.